No! 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 Stop! Stato italiano perché ci sono le istituzioni come l'arma dei carabinieri e altre istituzioni che sono in grado di salvarle. Ci racconta la storia? Assolutamente sì. Come giustamente ha accennato lei, siamo dinanzi a una tristissima vicenda che fortunatamente ha avuto un epilogo positivo. Un epilogo positivo costituito da quest'operazione svolta dai carabinieri del Comando Provinciale di Perugia in una bellissima sinergia tra le varie articolazioni che lo compongono. Mi riferisco in particolare alla stazione Carabinieri di Perugia, alla sezione operativa del NOR della Compagnia di Perugia e al nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Perugia. Tutto ha inizio nel febbraio del 2016, laddove una ragazza all'epoca dei fatti, giovanissima, poco più che a ventenne, viene adescata da una conoscente, la quale le propone un viaggio in Italia, laddove sarebbe stata ospitata da un suo referente, il quale si sarebbe fatto carico di tutte le spese del viaggio e che, una volta giunta in Italia, avrebbe provveduto a istradarla ad attività lavorativa, senza null'altro precisare. Dopo qualche momento di indecisione, di debolezza, ovviamente sopraffatta anche da uno stato di necessità che purtroppo ha influito tantissimo su quelle che sono state le sue decisioni, la ragazza non può far altro che accondiscendere e decidere di accettare la proposta mossale. A questo punto, a distanza di pochi giorni, la ragazza viene presentata a un gruppo di soggetti nigeriani i quali avrebbero dovuto, a loro volta, partire per l'Italia. Tra mille peripezie, durate mesi, la ragazza nel luglio del 2016 raggiunge finalmente le coste libiche. Sono quasi mille migranti, i quali vengono trattati in condizioni che definire inumane è presso a poco un eufemismo. Ma alla fine di queste peripezie, la ragazza, nello stesso mese, pochi giorni dopo, riesce a raggiungere le coste calabresi. Si sbarcano in Reggio Calabria, anche aiutati da una nave della Marina Militare Italiana. Dalle coste calabresi la ragazza viene trasferita quindi in un centro di accoglienza a Taranto. C'è da premettere che tra le raccomandazioni che la conoscente della giovane aveva fatto, vi era appunto quella di non portare con sé alcun documento e che avrebbe dovuto memorizzare esclusivamente il numero telefonico del referente nigeriano in Italia, il quale poi avrebbe provveduto in un secondo momento a tutte le situazioni possibili. La ragazza si comporta effettivamente in questo modo, giunta a Taranto e identificata, la stessa si mette immediatamente in contatto con il referente nigeriano in Italia, il quale le suggerisce, le indica meglio, di recarsi nel più breve tempo possibile, innanzitutto di uscire, di evadere, di scappare da quel centro di accoglienza, di recarsi nel più breve tempo possibile presso la stazione ferroviaria di Taranto. Così effettivamente si comporta la giovane, scappa dal centro di prima accoglienza, si reca presso la stazione di Taranto, si mette nuovamente in contatto telefonico con quello che poi si rivelerà il suo avuzzino e quest'ultimo si reca personalmente a Taranto, proveniente da Perugia, per prenderla e accompagnarla con sé nella sua abitazione perugina. Durante il viaggio la ragazza, ovviamente ancora titubante, chiede quale sarebbe stata all'attività lavorativa che avrebbe dovuto svolgere e come avrebbe potuto fare per sdebitarsi del bene, del bene che il ragazzo le aveva promesso. Il ragazzo tace e riferisce che di tutto ciò avrebbero parlato il giorno successivo. Nella sera stessa di quella giornata giungono entrambi a Perugia, presso l'abitazione di questo giovane, classe 85, con nigeriano, con regolare permesso di soggiorno e con qualche precedente di polizia. All'interno di questo appartamento, presso cui la ragazza viene ospitata, vi sono altre due donne, sul conto delle quali sono tutt'ora in corso ulteriori approfondimenti investigativi. All'indomani, il buongiorno che riceve la ragazza è la notizia che l'attività lavorativa che avrebbe dovuto intraprendere è l'attività di Meretricio, nella zona Pian di Massiano, di Perugia. La ragazza tenta in ogni modo di opporsi, scoppia in un mare di lacrime, ma nulla può, perché la minaccia è quella di ritorsioni gravissime, sia nei confronti della stessa, sia nei confronti della sua famiglia di origine in Nigeria. Non ha quindi altre soluzioni, altre possibili scelte in quel frangente. Peraltro il ragazzo le prospetta la necessità di estinguere il debito contratto per farlo aggiungere in Italia, il cosiddetto debito d'ingaggio, ammontante a circa 35.000 euro. La ragazza quindi non può fare altro. Viene avviata l'attività di Meretricio, scortata, tra virgolette, controllata, vista dall'altra ragazza nigeriana, anche ella prostituta, presente all'interno dell'appartamento. Ogni suo pensiero, ogni suo desiderio viene immediatamente rivelato al suo cucino. Lei non può fare nulla. Quando questi soldi vengono effettivamente portati a casa, tutto ciò che la ragazza riesce a raccogliere viene ceduto al suo cucino, il quale annota i vari acconti su una sua agendina. Nelle circostanze in cui la ragazza purtroppo nulla riesce a portare a casa, la stessa viene malmenata brutalmente dal suo cucino. Vive mesi di vera e propria inumanità. Arriviamo quindi al mese di febbraio del 2017, al termine di un violentissimo litigio, se così possiamo definirlo, perché le ripercussioni erano ovviamente univoche nei confronti della povera. La stessa, sfruttando un momento di disattenzione del suo cucino, riesce a scappare di casa. Riesce a recarsi presso l'abitazione di un conoscente, con cui era sorta un'amicizia nei mesi precedenti. Quest'ultimo la ospita per qualche giorno, riesce a rassicurarla, riesce a indurla, a recarsi dai carabinieri. La ragazza, a questo punto, dopo notti di riflessione, decide di presentarsi presso la stazione carabinieri di Perugia, laddove viene accolta dal comandante e da un nostro carabiniere di sesso femminile. L'accoglienza è ovviamente calorosa, la ragazza viene messa a suo agio e viene fatta in modo che la stessa, nonostante non parlasse una sola parola in italiano, con l'aiuto anche di un interprete, viene messa nelle condizioni di aprirsi, a noi di raccontarci quanto ho vissuto in quei mesi. Ovviamente non è stato un racconto di immediata percezione, perché è stato un racconto veramente difficile e complesso. La ragazza era provata, scossa, piangeva a dirotto ed era difficile, in qualche modo, riuscire ad avere un ordine cronologico dei racconti e un nesso logico dei racconti, ma i carabinieri della stazione sono stati abili anche in questo, per riuscire pian piano a ricostruire tappa per tappa l'accaduto. Ovviamente poi a denuncia acquisita il tutto è passato alla sezione operativa e al nucleo investigativo, composto da militari nelle condizioni per poter poi espletare i dovuti riscontri e accertamenti alle dichiarazioni rese. I reati contestati all'interno dell'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Perugia vanno dallo sfruttamento della prostituzione alla riduzione in schiavitù, dalla violazione sulle norme in rente dell'immigrazione, alla tratta di esseri umani e ha colpito, come abbiamo visto, il soggetto nigeriano classe 1985 e allo Stato vi sono in corso ulteriori indagini volte ad accertare l'eventuale concorso nelle medesime fattispecie di reato da parte delle altre due connazionali. Attualmente il soggetto tratto in arresto è al carcere di Perugia Capanne a disposizione dell'autorità giudiziaria mandante.